Ciao a tutti, con le dichiarazioni di Ceccarelli direi che è caduto l'ultimo velo di dubbio che c'era sulla pista di Peretola. Il governatore Rossi l'ha fatto dire per bocca dell'assessore Ceccarelli, ieri, al tendone di Toscana ai reporti che è stato fatto in Piazza della Repubblica, la pista dovrà essere da 2400 metri e adesso torniamo un attimo indietro nel tempo quando in campagna elettorale si diceva, meglio Rossi, che la pista doveva essere da 2000 metri come dichiarato nel PIT e che ci doveva essere dibattito pubblico. Il dibattito pubblico è stato stoppato, a quanto pare in conferenza di servizi a Roma sarà portata la questione della lunghezza della pista e l'esito è scontato perché le persone che si sono fatte promotrici della pista da 2400 metri, tra cui Vitoriggio, saranno presenti a questa conferenza di servizi, quindi Rossi pilatescamente si è lavato le mani di tutto quanto, tutto andrà a Roma e ritornerà con questa pista non voluta da 2400 metri in Toscana. In questo momento storico la nostra regione è soggetta a trasformazioni infrastrutturali e impiantistiche molto importanti, noi riteniamo strategico attivare tutti i percorsi partecipativi, quali per esempio il dibattito pubblico, per una serie di motivi anche economici, non lo diciamo solo noi, lo dice anche il Presidente dell'Autorità Antiporruzione, Raffaele Cantone, durante un'audizione in Commissione al Senato, rilevava la necessità di attivare il dibattito pubblico anche per limitare la corruzione, oltre che i costi interi dell'opera che sappiamo lievitare per problemi di ritardi quando la popolazione non accetta l'opera perché non è stata chiamata durante il percorso partecipativo e per gli elementi di corruzione. Ricordiamo che cos'è il dibattito pubblico? Il dibattito pubblico è fondamentale, è un sistema di partecipazione con il quale consultare preventivamente, non a opera compiuta, ma preventivamente le popolazioni interessate ad un'opera pubblica in modo da ridurre le contestazioni delle comunità locali, informarle correttamente e acquisire elementi utili alla migliore realizzazione dell'opera stessa. Quindi si deve fare prima questa procedura per evitare che dopo vengano fatti anche ricorsi, che spesso sappiamo ritardare le opere stesse e quindi fare limitare i costi. Un dibattito pubblico, un percorso partecipativo costa circa 150.000 euro. Noi saremo anche disponibili come gruppo consigliare ad autofinanziarlo con il taglio dei stipendi, ma ci chiediamo quanto costerà un'opera soggetta a ritardi dovuti a inadempienze, ricorsi o a varie infrazioni anche europee. Che cosa abbiamo fatto noi in riferimento alla necessità premissa dalla normativa esistente di attivare le procedure e i processi di partecipazione dei cittadini? Da subito abbiamo chiesto l'attivazione del dibattito pubblico e questa proposta ci è stata bocciata dallo stesso PD che esso stesso aveva votato e approvato le leggi sulla partecipazione e in particolare il piano di indirizzo pesagistico territoriale che prevede sull'aeroporto di Peretola esplicitamente l'attivazione del dibattito pubblico e lo devo leggere. Allo scopo di dare effettiva applicazione dell'articolo della disciplina generale del PIT la regione promuove l'attivazione del dibattito pubblico, quale già istituito dalla Regia regionale del 2007 tra l'altro, sui progetti concernenti la qualificazione dell'aeroporto di Firenze e forma il parere di propria competenza nell'ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale ad essere relativa con riferimento anche agli esiti del dibattito pubblico e quindi era già previsto la normativa. Noi abbiamo chiesto che fosse applicata la legge e c'è stato bocciato, abbiamo mandato una lettera all'autorità sulla partecipazione chiedendo perché avesse bocciato la richiesta di due sindaci, uno è già bocciato quello del Comune di Pisa, l'altro è in via di bocciatura, stanno valutando le carte, sembra che Toscana Aeroporto i ritardi nel dare documentazione a riferimento a questa richiesta del sindaco di Canenzano. Noi stiamo facendo di tutto, stiamo battagliando anche a riferimento allo scandalo della Volkswagen e ora Irene ci spiegherà il perché lo scandalo della Volkswagen è collegato alla vicenda dell'aeroporto di Biretola. È soltanto un dettaglio ma è quello che ci dice chiaramente come delle volte i dati che vengono utilizzati per fare delle analisi e quindi dei progetti possono non essere esatti e a nostro avviso qui gli stremmi per pensare a delle forzature da parte degli uffici regionali ci sono tutte. Noi ovviamente non ci fermiamo qui, come ha detto Giacomo abbiamo presentato un'interrogazione urgente data 22 ottobre sulla questione e in particolare abbiamo chiesto perché tutta la pianificazione urbanistica dell'area che è soggetta appunto a valutazione ambientale strategica venga rivista in quanto avvenuta su dati non autentici. L'esempio che ha fatto Giacomo è chiaro i mezzi su quali è stata fatta ad esempio la valutazione sono quelli della Volkswagen che presentavano dei dati di inquinamento, questi dati di inquinamento evidentemente non sono corretti. La pianificazione, lo studio è stato fatto su questi dati e probabilmente anche su altri, non solo. C'è anche un altro aspetto che è curioso ma la dice lunga anche questa su quello che chiamo le forzature. È previsto come indicazione che in autostrada le auto non debbano fare più di 90 km l'ora. Quindi si sta cercando tutti gli appigli per poter dare un'approvazione a degli studi, per fare degli studi che diamo approvazione a questo progetto.